lo sai qual è il valore di un chilo di pane domandalo alla mamma che lo va a comprare poi chiedilo a qualcuno che invece ha fame vedrai che la risposta cambierà lo sai qual è il valore di un giorno di sole tu mi dirai che tanto non si può acquistare però chi non è libero di uscire a giocare darebbe tutto ciò che in tasca ha ci sono mille cose a questo mondo che sono così belle tutte intorno ma forza di vederle ogni giorno a volte non le apprezzi quasi più e dai a tutto quanto il suo valore ma con il cuore solo col tuo cuore ed usa sempre il peso dell'amore per capire l'importanza che ogni cosa ha e dai a tutto quanto il suo valore quello che hai nel cuore quello che hai nel cuore non dare un prezzo quello è un grosso errore che la gente scioccamente troppo spesso fa un giorno dura sempre ventiquattro ore invece i giorni variano mese per mese ma è quello che trascorri insieme a chi vuoi bene il solo tempo che poi conterà puoi andare in Asia oppure all'equatore attraversare il cielo e pure il mare ma se non hai una casa puoi tornare il mondo intero quale senso ha e dai a tutto quanto il suo valore ed usa sempre il metro dell'amore per capire quanto è grande la sincerità e dai a tutto quanto il suo valore quello che hai nel cuore quello che hai nel cuore non dare un prezzo che non serve a niente ma cerca di capire veramente è il valore del tuo cuore che dà felicità è il valore del cuore che dà felicità è il valore del cuore che dà felicità grazie a tutti